Perché io poi in realtà nella vita di tutti i giorni ho dei momenti proprio di vuoto in cui penso una cosa e dopo forse venti secondi non riesco neanche più a ricordarla. Mi capita spesso, è bruttissimo perché tu resti lì e dici vabbè, tornerà, tornerà in mente. E invece adesso dicevi? Adesso è impressionante, impressionante. Cioè ricordo parole che sono state tirate fuori ieri così a caso da più persone diverse.